Benvenuti su Notizino Click, qui con me per la giornata di oggi 12 settembre, Loredana, la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato. Scuole diseguali, il nuovo rapporto di Save the Children, USA, inflazione e frena, come d'attese, del 2,5% annuo ad agosto. Sanchez, Unione Europea, ripensi sui dazi. Settembre è il mese dei grandi ritorni sugli scaffali delle librerie. Giorgetti studia meno tasse per chi fa figli. E dal 26 settembre del 2024 iniziano il casting della nuova edizione di Una Voce per San Marino. Calla il reddito reale delle famiglie più povere di 15 anni fa. Nel 1981 moriva il poeta italiano premio Nobel Eugenio Montale. E nel 1913 nasceva l'attretta statunitense Jesse Owens. Il 1944 nasceva Barry White. Tantissimi auguri al cantautore italiano Mahmood. E chiudiamo con una frase di Osho. Le persone immature che cadono in amore distruggono a vicenda la propria libertà, creano un legame, una prigione. Questo e molto altro potete trovare nel nostro portale di informazione. Vi ringrazio per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla nostra prossima mini rassegna. Loredana. Loredana.